Allora, innanzitutto io mi metto in evidenza anche la tempestabilità con la quale siamo intervenuti. Appena due giorni fa abbiamo saputo di questa situazione, abbiamo immediatamente convocato l'azienda che abbiamo visto stamattina e le parti sindacali che abbiamo visto oggi. Nel frattempo abbiamo scritto al Ministero per cercare di aprire un tavolo nazionale. Ecco, l'azienda l'abbiamo vista, il sindacato ci siamo confrontati, pare che in queste ore, non l'ho neanche verificato personalmente, pare che in queste ore sia arrivata anche la disponibilità del Ministero di aprire questo tavolo. Beh, se così è, è un bel passo avanti che ci fa meglio sperare nella buona evoluzione di questa trattativa.